Dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio il nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale. La bozza è già stata trasmessa alle regioni. Dopo altri step si arriverà all'approvazione nell'ambito della conferenza Stato-Regioni. Da alcune anticipazioni di stampa, tra le novità figurerebbe lo sganciamento del calendario vaccinale dal piano generale che ha durata triennale. Un cambiamento ritenuto importante in quanto agevola l'introduzione annuale di eventuali modifiche o nuove vaccinazioni. Intanto sul fronte dei contagi, in attesa dei dati regionali del venerdì, si riflette sull'alto numero di reinfezioni. I medici ricordano che i vaccini a RNA che hanno grande efficacia nel prevenire le forme gravi della malattia non costituiscono tuttavia uno scudo totale nei confronti del covid. Dunque nel tempo la possibilità di reinfettarsi esiste, almeno finché il virus è in circolazione. Il mese di febbraio porterà con sé anche l'aggiornamento degli orari in cui sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione anti-covid nelle sedi gestite dall'ASL di Pescara. A Pescara città, nei locali della stazione Porta Nuova, ci si potrà vaccinare tutti i martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, senza prenotazione, che invece è obbligatoria per l'età pediatrica dai 5 agli 11 anni. Il Baby Hub è in via Renato Paolini 47 a Pescara ed è aperto dalle 15 alle 17 tutti i martedì del mese. A Penne, con trada Campetto, sede aperta dalle 15 alle 18 nei giorni, mercoledì 8 febbraio, mercoledì 22 febbraio. Non è necessaria la prenotazione. Ricordiamo infine che tutte le persone con età superiore ai 12 anni possono effettuare la quarta dose, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo. Anziani fragili e over 60 con patologie indicate possono anche ricorrere la quinta dose del vaccino anti-covid. Nei centri vaccinali ci si può vaccinare anche contro l'influenza, ma solo se in concomitanza con la vaccinazione anti-covid.